Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Can you hear the screaming of you? Un commento SHARE THE LOVE di cui parleremo proprio in questo video. Parleremo anche di quello che sta succedendo. Oramai tutti lo sapete, ci sono i terremoti, sono certo che mentre stavate giocando avrete sicuramente assistito ad una scossa più o meno forte, ma forse non avete visto quello che è successo negli ultimi, nelle ultime ore, ovvero sia la prima fase di cui vi andrò a parlare. In questo video non mancheranno ragazzi anche dei leaks riguardanti nuove skin e nuovi oggetti che prestissimo vedremo nel nostro game, o almeno si spera. Prima però ragazzi ve lo ricordo, intanto grazie, grazie a tutti per utilizzare il mio codice CREATOR XIUDERONE, grazie a tutti quelli che mi supportano davvero. Ma vi ricordo di lasciare anche un bel like se vi piacciono i miei video, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella per non perdere nessuna notifica. Ma prima ragazzi, la domanda ragazzi ve la devo fare. Sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qua sotto nella sezione apposta sotto il video. E la domanda di oggi è davvero abbastanza interessante. Qual è la tua preferita tra queste tre ragazzi? Questa è una delle immagini che vedremo e che abbiamo già visto in realtà nella pagina Twitter di Epic Games. Io sono molto molto indeciso raga, io mi piace lama, mi piace lama ma rimango su Pietro, adoro Pietro, la mia skin preferita, anche se il lama non vedo l'ora di vederlo. Fatemi sapere ragazzi qua nei commenti qual è la vostra preferita delle tre. Ma quindi, ciancio alle bande, i bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare appunto dell'evento SHARE THE LOVE. Se andiamo a vedere nella sezione eventi in-game, da poche ore sono presenti le due icone che vanno a contraddistinguere le due modalità di gioco. La modalità single, quella che state vedendo qua, e la modalità duo. Come sappiamo ragazzi, ci saranno diversi step di qualificazioni per il torneo. Innanzitutto voglio dirvi ragazzi che il torneo inizia oggi, ok, ed è suddiviso in tre manche. La prima oggi dalle 11 alle 14, la seconda dalle 19 alle 22 e poi domani invece dalle 15 alle 18. Quindi ragazzi, come funziona? Innanzitutto passano i migliori mille giocatori, credo che siano divisi per server americani, asiatici, europei, ok, quindi i mille migliori. E poi verranno suddivisi questi mille giocatori in tre divisioni in modo da cercare di bilanciare appunto la vera skill dei giocatori. Quindi nella divisione aspiranti i migliori 20% dei mille, nella divisione contendenti i migliori 3% e poi nella divisione campioni, non mi ricordo dove... Ah, no! Nei campioni i migliori mille, nei contendenti i migliori, il 3% dei migliori e negli aspiranti il 20%. Quindi ragazzi, c'è veramente un sacco di possibilità di accedere poi alla fase successiva e, perché no, alle fasi finali che si tengono a fine febbraio. Quindi ragazzi, tanta tanta roba. Vi ricordo anche che inserendo il codice supporto a un creatore xyuderone, per esempio, troverete da martedì con la patch 7.4 anche la mimetica per le armi e per i veicoli di San Valentino. Tanta tanta roba, se non l'avete vista fate un salto nella mia pagina Instagram che la troverete senz'altro. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo ovviamente di questi terremoti che stanno lentamente, cominciando a farsi sempre più insistenti. Non so se ragazzi ne avete dei ricordi. Qualche giorno fa vi avevo pubblicato un video che vi faceva vedere una tabella molto molto interessante che parlava appunto delle varie fasi dei terremoti. Ve la voglio far vedere nuovamente perché secondo me la potete... Anzi, 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 voglio prima farvi vedere una cosa, poi la vediamo insieme ragazzi. Guardate qua. Questo è un estratto di un giocatore che mentre era al labirinto, guardate. Terremoto, ve la faccio rivedere. Terremoto con tanto di polvere ragazzi. Io non so se vi è mai capitato di vederlo mentre giocavate con la polvere. A me sinceramente no. E volevo appunto farvi vedere questa tabella interessantissima che come vedete conferma quello che abbiamo appena visto. La prima fase dei terremoti, quella là in alto, earthquake smoke drop. Quindi terremoto con polvere. O comunque con fumo. Ed è la prima fase confermata da poche ore ufficialmente. Che cosa succederà adesso? La prossima fase sarà fumo e dust explosion sarebbe esplosione di polveri. Probabilmente, probabilmente esplosioni interne. Sai, tipo, non so come spiegare, ma sarà qualcosa di veramente figo. Magari crepe che rilasceranno qualcosa dell'esplosione. Ma la cosa più interessante, secondo me, ragazzi, è la fase numero 3. Trees falling. Cadranno gli alberi, ragazzi. Cadranno gli alberi. Quindi qualcuno già diceva addirittura che ci sarà un radicale cambiamento della mappa nella season 8. Non lo so, ma qua ragazzi. Camera shake ed earthquake itself vuol dire che si scuoterà di brutto la camera. Mentre ci saranno i terremoti e saranno abbastanza pesanti. Earthquake floor drop. Porco giù. Da qua, ragazzi, comincia a essere veramente straviolento il terremoto. Players being in water. I giocatori andranno in acqua. Non chiedetemi in che modo. Ma è veramente allucinante. E poi snow turns to dust. La neve potrebbe trasformarsi in polvere. Insomma, ragazzi, abbiamo veramente ancora un bel po' di roba da vedere con questi terremoti. E sicuramente la vivremo insieme durante questi giorni che ci accompagneranno alla season numero 8. Ma andiamo avanti, ragazzi. E voglio dirvi due cose molto molto rapide sulla skin honor. Sapete, ragazzi, anche qui qualche giorno fa avevo avuto anche la fortuna di partecipare nel momento in cui ci fu una... Vennero trafugati centinaia di codici e un sacco di giocatori ottennero gratuitamente la skin honor. Beh, ragazzi, quella che si ottiene in poche parole con l'acquisto di un honor 20. Qua, ragazzi, risponde in questo messaggio, invece, direttamente dal team di honor. E viene detto che dal 15 febbraio tornerà la skin e insieme alla skin arriverà anche qualcosa in più. Non sappiamo che cosa, ma sicuramente per scusarsi, we apologize, dicono quindi per scusarsi dell'inconveniente e di questi giorni in cui la skin non è disponibile, sicuramente regaleranno qualcosa in più che potrà appunto essere utilizzato dai possessori della skin honor. Che secondo me è davvero molto molto interessante. Beh, ragazzi, io vi voglio davvero augurare un buona fortuna e un in bocca al lupo per il torneo Share the Love che è veramente molto interessante. Anche io ci parteciperò questa mattina dalle 11 alle 14. Vediamo se magari riesco a fare qualcosa. 15 punti per passare alla fase successiva. Ricordatevelo. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! E non parte mai l'altro. Ma perché? Noi ci vediamo in live alle 13.